Cos'hanno queste quattro società in comune, oltre alla produzione di automobili? Sembrerà strano, ma tutte e quattro provengono dalla stessa mente, quella di Enzo Ferrari. Negli anni 40 Enzo fondò la Ferrari. Ferruccio Lamborghini, dopo essere tornato dalla guerra, aveva aperto una piccola azienda di trattori, che diventò poi la più grande d'Italia, mentre Harry Ford II era semplicemente il figlio di Harry Ford First. Il primo intreccio nella nostra storia avvenne proprio tra i due imprenditori italiani. Ferruccio, ormai businessman di successo, notò un difetto nella frizione della sua Ferrari, e siccome una delle parti più importanti dei trattori è proprio la frizione, decise di proporre una collaborazione tra le due aziende, incontro che portò alla famosa frase. Torni a su ai trattori, contadino. Ferruccio allora, ferito nell'orgoglio, convocò alcuni dei migliori ingegneri di tutta Italia per creare la prima Lamborghini, la 350 GTV, di cui venne prodotto un solo esemplare, che venne esposto al Salone di Ginevra. Per la produzione in serie venne ideata la 350 GT, versione più moderata, e in seguito venne presentata la Miura. Il resto è storia. Subentra così Henry Ford Second. La Ferrari, nel 1963, entrò in una profonda crisi finanziaria, e il colosso americano si propose come acquirente del cavallino, e nel 1965 la trattativa sembrava essere andata in porto, ma una soffiata al presidente della Fiat Gianni Agnelli, convince quest'ultimo a rilanciare l'offerta Ford e acquisire l'azienda di Modena. Inoltre, durante la trattativa, Ford non prevedeva nei suoi termini l'autonomia della Ferrari, che sarebbe dovuta completamente sottomettersi all'azienda statunitense. Questo fece infuriare Enzo, che insultò, e non poco, Henry Ford. Una volta venuto al corrente delle parole di Enzo, Ford dirottò la maggior parte delle sue risorse sulla produzione della macchina da corsa perfetta, e con l'aiuto del signor Shelby, dopo una fallimentare prima uscita alle manse, creò nel 1966 la Ford GT40, che riuscì ad arrivare prima, seconda e terza alla famosa 24 ore, su quale vinse altri tre anni di fila. Arriviamo quindi all'ultimo intreccio, ed il più indiretto. Nel 1983, il giovane argentino Horacio Pagani sbarcò a Modena con una tenda, una bicicletta e cinque lettere di raccomandazione da parte di Fangio, ovvero un'ex pilota di Formula 1 che Horacio incontrò nei due anni in cui lavorò per la Renault. Le sue proposte, tuttavia, furono rifiutate da Fiat, De Tommaso, Maserati e Ferrari. Anche Lamborghini disse no, ma lui si presentò comunque alle porte della fabbrica, e gli venne dato un lavoro, come uomo delle pulizie. Ma grazie alla sua esperienza, in poco tempo fu data ad Horacio un posto nel team di materiali composti, e dopo poco divenne capo di questo dipartimento. Horacio era ossessionato con un nuovo materiale, la fibra di carbonio, resistente, leggera, e già testata in macchine di Formula 1 come la McLaren MP4-1. Voleva quindi costruire una Countach in questo materiale, ma siccome la Lamborghini non era in competizioni automobilistiche, non gli permise di farlo. Allora Horacio fece di testa sua, comprò gli equipaggiamenti necessari con un prestito dalla banca, e con su twin costruì la Countach che aveva progettato, rendendola la più veloce macchina del mondo all'epoca. Ma il capo della Lamborghini non era ancora convinto a causa dei costi elevati del carbonio, quindi Horacio sciolse il team e se ne andò. Aprì così un suo negozio, dove creava party in carbonio per team di corse, e dopo anni e anni di design, sacrifici e studi, nel 1999 nacque la prima Pagani, la Zonda C-12, la prima di tante Pagani che rivoluzioneranno la storia dell'industria automobilistica. Probabilmente non sapeva cosa stava andando incontro, e soprattutto cosa avrebbe creato quelle sue azioni, ma una cosa è certa, senza Enzo Ferrari e il suo carattere, il panorama automobilistico non sarebbe stato tanto vario e affascinante. Se questo video ti è piaciuto, lascerai che iscriviti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, bello!